Bella a tutti da Big Pork, eccoci qua in questa nuova gara questa gara è stata creata da Taz Maniaz vi lascio il suo canale in descrizione ed è un level asian con la nuova Outlaw andiamo? speriamo che funzioni il level asian in questa macchina è la prima volta che faccio level asian con la Outlaw già qualcuno che esplode vai piano, che pericoloso frino, 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 mamma mia che drift proseguiamo tranquillamente mamma mia che dobbiamo fare là adesso vediamo ok, dove? frino, frino, frino è scivoloso un pochettino regge però dobbiamo fare sempre attenzione dai quando inizia il level asian dove sto? ok carina questa parte gp iniziale oh, lei ci siamo raga adesso inizia credo si, si andiamo raga se sentite martelli o battere non è colpa mia quindi scusatemi ma non credo che si senta andiamo sopra si, si, si saliamo più che altro mi dà fastidio a me che devo stare concentrato e se sento battere mi drollo oh mio dio oh mio dio poi ce lo spariamo oh, abbiamo preso pure il check e qui cosa abbiamo di bello? vediamo shh, combi come vengono i combi? bene bene, bene noo, regà perché? ciao io, cari teo e rispondiamo velocemente hanno recuperato? lorenzo è arrivato x lorenzo mi dica sui non vuoi fregare la primera dai sui fa il bravo non mi fregare le primere aiuto dai 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 perfetto così devo dire che mi piace questa macchina per il level asian vengono bene i cambi wallride è leggermente strana però favolosa siamo vivi, siamo vivi tranquilli ok pensavo di superare il check qui cos'è? ah, c'è un cambio là l'ho sbiracciato, regà quindi siamo leggermente avvantaggiati dove era il cambio? non era qui ma era più avanti, credo aspettate vediamo eccolo no, no, no sì? eh, no, regà avevo visto già che eravamo bassini, eh lorenzo ce l'ha fatta no, eccolo qui ma ce l'asciamo dobbiamo fare attenzione ce l'ascia ce l'ascia lui ce l'ha fatta ok, fa niente tanto dobbiamo rispondare per forza ho sbagliato io a lasciare la scia ce l'ha fatta? eh, non lo vedo non lo vedo ancora noi proseguiamo ok ce l'ha fatta lori no no, 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 no regà è un cambio leggermente strano, eh no eh, peccato non è come un X-A21 che se ci appoggiamo di lato magari si rigira se sbagliamo è la fine ok ma state tranquilli che ci riproviamo terzi allora ce l'ha fatta no, no è perché è arrivato qualcun altro qua così è perfetto sì qua c'è un turbo proseguiamo sì, sì credo che siamo primeri comunque spirali in discesa raga per favorita Zmaniacs dimmi che non hai messo un altro cambio dove devo andare che c'ho paura oh, meno male che non sono andato veloce qua ok e dopo ok, ok regà dai, quando finisce sto giro che sto in ansia se cado qua aperto dove dobbiamo andare non lo so ok mamma mia di fuori regà stanno a martellare non lo so ci stanno i lavori in corso però siamo primeri dritti aspettate è dritti per caso sì, 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 sì eccolo qua il check flip basta, basta flip oh, lei ci siamo chi è che sta arrivando è Lori secondo me sì, sì ve l'avevo detto regà se sbagliavo la perdevo la gara allora concentrati ok sì sì oh mio dio oh mio dio oh mio dio è qui sì ok ok giù andiamo tranquilli c'ho un po' d'ansia ve lo dico ok tutto qui dimmi che c'è il check per favore sì ragazzi c'è il check meno male madre di dio andiamo è una gara bella veloce giù sì il check lo indica giù sì, 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 sì mamma mia che velocità andiamo siamo quasi a 5 minuti di gara frena 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 eh ho sbagliato io perdonatemi dovevo fare un altro giro invece abbiamo sbagliato ma non fa nada ancora possiamo vincere questa splendida chiaririta ok dove frena iniziamo a rallentare prima cosa ho capito dove devo andare ok al piano di sotto raga qui esattamente qui sì, cambio oh ma raga ma sta macchina fa i cambi veramente bene ok posso proseguire sì, sì andiamo sali, 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 sali sali, sali, sali qui cos'è? oh no raga credo che dobbiamo attaccare il wallride così eh mi ha recuperato l'ori? no, ancora no andiamo belli veloci eh, credo che dobbiamo avviare un'altra gara perché durerà poco questa aspettate che controlliamo non si rigira no raga non si rigira sta macchina perché, perché, perché aspettate siamo ancora primi eh ma dobbiamo capire perché non si rigira no sali forse così quasi raga quasi è un po' strana questa parte ma non ho capito se devo fare un cambio oppure sto facendo bene raga perché non si capisce ma aspettate un attimo è tipo così raga però dobbiamo andare leggermente più piano oppure uscire bassi siamo ancora primi eh però questa parte è strana amo di parivalori e mi frega la primera eh già lo so purtroppo lo so no vi giuro che non capisco raga come mi devo mettere siamo a sette minuti potevamo fare un buon tempo invece nada nada di nada allora no raga è così è così la tecnica no 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 dai ce la dobbiamo fare insieme ce la dobbiamo fare come saliamo su è arrivato l'ori l'avevo detto io ok no no allora per favore non ce la fa il primo colpo dove sei ce l'ha fatta no non credo se ce la fa il primo colpo quitto ve lo dico no non quitto però è impossibile tanto che ce la fa no non ce l'hai fatta vero no mi sembrava strano dai raga perché non si può appoggiare sto veicolo perché perché non si può appoggiare lui c'ha pure ruote fuori strada io c'ho ruote F1 però credo che sia uguali ma io dico se andavo leggermente più giù ragazzi visto come mi ero appoggiato bene perfetto devo fare tipo una sgommata quello l'ho capito però è un trick particolare dove è Lorenzo ce l'ha fatta credo di si sapete no no raga se sgommiamo succede questo o sgommiamo a bassa velocità oppure non lo so mi giuro che non lo so non ho idea e comunque siamo già 8 minuti non c'è bisogno di fare un'altra gara vediamo quanto dura questa ok ce l'ha fatta Lorenzo Loree no non ce l'hai fatta vero no no non ce l'ha fatta mi sa che qui staremo 20 minuti ve lo dico io ce l'hai fatta non lo vedo più Lorenzo raga no ce l'hai fatta sui ce l'hai fatta Lorenzo no non ce l'ha fatta dove sta perché non respawna chi era quello che è volato raga non mi chiedete niente dove è Lorenzo non capisco eccolo non ce l'hai fatto sui meno male andiamo andiamo perché magari metti i check lontani e mi trollano raga dai no raga ho capito leggermente la tecnica eh state tranquilli aspettate dai raga ce l'ho io cara idea ce l'abbiamo quasi fatta ce l'abbiamo quasi fatta state tranquilli ok eh no no raga vi assicuro che dobbiamo essere non perfetti di più Lorenzo sta ancora là credo no credo che si quasi raga vedete manca pochissimo e ci siamo quasi eh ce la faremo ce la faremo non vi preoccupate ok ce l'ha fatta no 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 secondo me si potrebbe fare anche un cambio eh sapete però non saprei vediamo vediamo saliamo su no lui non ce l'ha fatta troppo alti però andava bene eh poteva andare bene io proverei ad uscire dal basso vediamo se si può eh andiamo è tosta questa garetta raga cioè è tosta questa parte non la gara vedete così troppo bassi raga dobbiamo stare centrali e dobbiamo sperare che in quel momento la macchina regge se no è impossible ve lo dico ok si e forse l'ho ricevuta pure fatta sapete no ce l'ho fatta io si 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 aspettate saliamo su mamma mia ci abbiamo messo tanto comunque no regga siamo primari mamma mia andiamo ok ok saliamo su bello veloci orga una miniatura una miniatura al volo e dove è il traguardo eccolo là eccolo là non so nemmeno io cosa ho detto andiamoci a prendere questa meravigliosa primera posizione con l'outlove cerchiamo di atterrare pure bene vediamo olè comunque sia se vi è piaciuta questa gara iscrivetevi al canale passate al mio secondo canale pork mods e noi ci becchiamo nel prossimo video bella